Il sogno di far l'attore si è realizzato poi praticamente solo una volta in maniera concreta solo in un film proprio diretto da Pupi, perché Pupi mi affidò un ruolo non proprio primario ma insomma un ruolo discreto nel suo primo film che si chiamava Balsamus, sottotitolo l'uomo di Satana. Poi solo con i miei mezzi, quindi presentandomi da solo e autogestendomi riuscì a fare, perché in quegli anni c'era una competizione bestiale veramente assoluta un paio di pubblicità, allora si chiamavano caroselli ma non i ruoli principali, sempre i ruoli molto secondari. A ritorno da questi casting, da questi provini ai quali io partecipavo e che frequentavo, quindi gestiti più che altro, allora la figura del casting più che altro nelle truppe era rappresentata dall'aiuto regista, non c'era una figura proprio che si occupava esclusivamente del cast. L'aiuto regista dava una mano nel scegliere in maniera diciamo selettiva, fare le preselezioni, gli attori da presentare poi ai registi. Io ero un ragazzo della provincia emiliana, timido, di buona famiglia, bolognese, così un po' troppo perbene e tornavo a casa da queste selezioni alle quali il mio agente mi mandava sempre abbastanza depresso perché non avevano quasi mai dei risultati accettabili. Allora Pupi vedendomi così scoraggiato nella mia illusione di far l'attore, mi disse lascia perdere perché non ti metti a scribacchiare visto che sei una persona fra l'altro non solo piacente fisicamente ma sai anche delle belle idee e sai anche una certa fantasia. Perché non mi dai una mano nello scrivere i soggetti e le sceneggiature, così mi misi in questi tre anni di non attività che seguirono i due grandi insuccessi dei primi due film che diresse Pupi, ci mettemmo a scrivere io e lui, poi dopo anche con Gianni Cavini e con Maurizio Costanzo, dei soggetti e delle sceneggiature che erano quasi sempre poi bocciate dai produttori e dai distributori, non perché fossero brutte ma perché Pupi e me veniva da due insuccessi commerciali così eclatanti per cui al nome di Pupi Avati tutti scappavano un po' terrorizzati. Poi abbiamo avuto la fortuna che Tognazzi lesse il copione da noi scritto appunto anche da me, della Mardurca, del Barone, della Santa del Fico Fiorone e la nostra vita cinematografica è cambiata. Io in quel film lì non solo ho scritto aiutato mio fratello a scrivere il soggetto della sceneggiatura ma Pupi mi prese anche come suo aiuto regista. Gli aiuti registi ufficiali di quel film, nei titoli di testa o di coda del film sono Antonio Avati e Enrico Tognazzi, quindi il fratello del regista e il figlio del protagonista.